E' un'onda che sale la protesta in Tunisia. Le due anime del paese, una pro e l'altra contro Enada, il partito islamico che guida la coalizione al potere, hanno riempito e infiammato nella notte al brado, la piazza di Tunisi di fronte al palazzo dell'Assemblea Nazionale Costituente. Decine di migliaia hanno chiesto il suo scioglimento, una mobilitazione pacifica fino all'alba. Vogliamo inviare un messaggio al governo, per questo chiediamo al popolo tunisino intero di scendere in piazza per difendere la democrazia e la libertà. Il futuro del nostro paese inizia qui. Il governo ha convocato una riunione di crisi. Sono sempre più alte le tensioni politiche dopo l'assassinio nei giorni scorsi del leader dell'opposizione laica, Mohamed El Brahimi, il secondo a cadere dopo shock ribelahid.